Torna dopo il periodo delle restrizioni, sull'ampia spianata della chiesa all'aperto di San Pio da Pietrelcina, la solenne e grande veglia in preparazione alla festa liturgica del Santo. Giovedì 22 settembre, a partire dalle ore 18, in diretta da San Giovanni Rotondo, su Padre Pio TV. Sei il nostro Padre Pio, in cari, 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 io non lo avuta mai. Grazie a tutti. Grazie a tutti.